A Francofonte nasce il nuovo centro-destra, ne parliamo con Guglielmo Barezzi, promotore anche di questa iniziativa politica. Sì, da poco è nato il nuovo centro-destra a Francofonte, facendo riferimento ad Angelino Alfani a livello provinciale con Enzo Vinciullo. E abbiamo avuto una riunione sia a livello con Enzo Vinciullo e risera pure con il ministro Lupo a Siracusa. Ecco, quali sono gli obiettivi che volete centrare? Allora, gli obiettivi che vogliamo centrare, innanzitutto, visto che è considerato che nelle elezioni amministrative a Francofonte si sono costituite diverse liste civiche di cui facevamo parte pure noi, essendo dell'area del PDL. Ora stiamo cercando di organizzare il nuovo centro-destra e parte della destra, come la destra, Forza Italia e così via. E chi vuole aderire alla nostra iniziativa. Cambierà qualcosa in Consiglio Comunale? Cambierà qualcosa con l'amministrazione comunale attuale in gare? E a livello di Consiglio Comunale non cambierà nulla, rimarrà tale e quale, però possiamo dare un input all'amministrazione comunale e migliorare alcune cose.